You make me feel, Silvester, alle 8 e 11 minuti, questo era il Crystal History delle 8, bentornati qui su Crystal Radio con anche i nostri ospiti. E diamo il benvenuto a Eva Amos, buongiorno Eva. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, oggi non sei venuta da sola, vieni qui a raccontarci un'ennesima mostra fatta da voi di Art Space, ma hai portato un ospite. Presentacelo solo, chi ci hai portato? Allora, ho portato oggi, stamattina, Alessandro Giugni, che è uno dei partecipanti, che è il fotografo esattamente, che vi racconta adesso quello che ha fatto, la sua arte, la fotografia, la storia, giusto? E allora, buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi, un fotografo. Quindi è bello che anche la fotografia entra a far parte delle tue mostre, Eva. Fotografo e, la classica domanda, fotografo dei che? Cosa fotografi? Questa è la domanda, no? Immagino, quindi iniziamo con i fondamentali. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, grazie Eva per l'invito. Allora, la domanda è centratissima, è quello che mi fanno sempre tutti. Fotografo dei che? La mia specializzazione è un po' strana, nel senso che io faccio reportage, che è un tipo di documentaristica che ormai un po' si è perso con la nascita dei social, con la diffusione di Google, degli stock di immagini. Diciamo che il concetto di reportage si è un po' perso perché tutti hanno il telefonino in mano e quindi c'è stato un fenomeno di democraticizzazione della fotografia e dell'immagine che ovviamente ha portato quella che una volta era tipo il touring club italiano che realizzava lavori e commissionava lavori importanti di reportage. Pensiamo a Berengo Gardin, che è il più importante reportagista del Novecento italiano, ha creato grandi lavori proprio partendo da questo ed era il reportage sociale. Oggi è un genere un po' a sé stante, poi io faccio anche ritrattistica, lavoro con alcuni personaggi abbastanza importanti, però la specializzazione di base è il reportage. Il reportage sociale l'hai chiamato anche, dove non è solo far vedere la natura, far vedere il paesaggio, ma far vedere gli umani che vivono. Contestualizzare l'essere umano nel tempo in cui vive. Ecco, capito? Mettila sotto, l'hai scritta nel catalogo? Sì, ho preso punti, sì. Allora, cosa presentiamo oggi? Milart, il nome è abbastanza milanese, mi viene in mente, e forse appunto il tema è quello, giusto? Esattamente, questa è la prima edizione della mostra Milart su Milano, quindi ci sono tanti artisti, anche Alessandro, che presenteranno le opere incentrate sulla città di Milano. Incentrate su Milano, non necessariamente però da artisti milanesi invece, perché arrivano un po' da tutte le parti, giusto? Certo, sì, abbiamo tanti artisti internazionali che provengono da 14 paesi diversi, quindi è bello anche questo concept, vedere come l'artista straniero, internazionale, vede la nostra città, quindi interessante questa cosa. Bisogna capire se vivono anche loro un po' nello stereotipo di Milano, città della moda, Milano città che va veloce, o se invece qualcuno coglie degli altri aspetti della nostra città. Tu Alessandro, quali aspetti cogli nella nostra Milano? Allora, direi due tipologie di aspetti di base. Il primo è il fatto che, essendo che non è la fotografia il mio unico lavoro, quindi sono obbligato a correre tanto e concentrare l'agenda tra le 5 della mattina e le 10 di sera, quindi ovviamente tendo a rallentare quando fotografo. Diciamo che io ho portato, ho sottoposto a Eva, una serie di fotografie che raccontano Milano più lenta e diciamo anche un po' più astratta. Un esempio su tutti, la spirale, che è una fotografia che ho realizzato all'interno del Museo del Novecento. Sono tutte fotografie premetto realizzate a pellicole, le stampe sono tutte ai sali d'argento, quindi un metodo anche di presentazione un po' d'antan. E d'antan, oddio, è il modo in cui si dovrebbe fare la fotografia davvero, finché non ce l'hai stampata non ti rendi conto di che cosa sia la fotografia realmente, che è un'immagine, diciamo, astratta dal suo contesto. Si capisce che è il Museo del Novecento solo perché c'è un lato dove si legge Edu, che è la scritta che c'è in fondo del Museo del Novecento, ma sfruttando la geometria della scalinata centrale e il fatto che in fondo ci sia una statua che punta il dito in una certa direzione, si crea quella che potrebbe essere, diciamo, una sezione aurea, anzi non è quella che potrebbe essere, proprio la sezione aurea, che è un concetto matematico che deriva dal Fibonacci, quindi riprende, unisce il concetto di arte da un punto di vista geometrico e il concetto della base di inquadrantura della fotografica e di composizione fotografica. Beh, insomma, se mi tiri fu anche Fibonacci, io mi sciolgo davanti a una spiegazione del genere. Se vuoi ti spiego anche la sequenza di Fibonacci da un punto di vista esoterico, ma non credo che... Ah cavolo, ci possiamo andare così nel dettaglio, lo teniamo per un'altra puntata magari quello, ok? Sì, esatto. Oltre alla fotografia di Alessandro, che cosa potremmo vedere? Cos'altro ci sarà? Altri fotografi detti? Ci saranno altri fotografi, esatto, e ci saranno anche le sculture, e poi ci sarà anche un capo di moda, quindi un vestito, visto che comunque parliamo della città... Non si può scappare da quello. No, no. Quindi c'è anche questo. Un po' di tutto. Beh, poi a qualche giorno dalla chiusura, anzi, a un paio di giorni dalla chiusura della Fashion Week, che insomma ci sta, che sono le briciole di moda che rimangono attaccate come sempre alla nostra città. Esattamente, sì. Poi ci saranno tantissime opere pettoriche come... Non abbiamo detto dove sarà e quando sarà però. Allora, non abbiamo detto, diciamo subito, dal primo al 10 marzo, quindi il primo marzo sarà la regolazione, presso la Galleria Mai, che si trova in centro di Milano, a due passi dal Duomo, la due passi dal Duomo, già detto, e una delle traverse di via Torino. Ok, fino al 10 sarà. Fino al 10. Cosa succederà il primo all'inaugurazione? Ne parliamo fra pochissimo, subito dopo The Weeknd. Adesso un po' di musica con The Weeknd, Save Your Tears. E poi torniamo qui con Alessandro Eva per parlare di Milart. The Weeknd, The Weeknd, Save Your Tears. Mettere The Weeknd al martedì far ridere, comunque ve lo dico. Allora, invece, all'inizio del weekend, venerdì è il primo marzo e potete andare al Vernissage di Milart, giusto? Sì, esatto. Che cosa vedremo? Che cosa vedremo? Adesso vi racconto un po' del programma della serata. Quindi alle ore 17 inizia, accoglienza ospiti, ma inizia anche live painting di Filippo Bragato, un artista milanese che si è trasferito in Campania. Ok. E poi alle ore 18 abbiamo la Live Music milanese, dal cantautore milanese Paolo Minichini. Quindi non mancate questo pezzo che è importante, visto che parliamo comunque di Milano. Si canta Milano. Esatto, esatto. Alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale svolta da me, critico e giornalista culturale Emanuele Biluffi. Poi abbiamo, non abbiamo ancora detto, ma abbiamo una bella sorpresa. Chi c'è? Abbiamo rappresentante del gruppo Oltre Popavese che tutta la serata... Dalla bella a tutti. Esatto. Ah, hai capito. Grande festa. Tu dovresti sentire quelli di Milano da scrocco perché secondo me ti portano un po' di gente lì a scroccare il vino. È veramente interessante. No, comunque devo comunque parlare di questo gruppo qui della cantina perché parliamo della Versa. Ah, cavolo. Tu conosci bene. Sì, sì, lo conosco bene. Ho detto così sembra che bevo la Versa tutti i giorni, però non è lo stesso. No, no, in realtà ero una... Sono anche a Stemio sono. Esatto, è un scherzo. Mi spiace per quelli della Versa. Però naturalmente l'hai sentito parlare. Famosissima, conosciutissima, cavolo. Esatto, quindi la serata di... Di irreprensibile la cantina, no, scherzo, no, la conosco davvero, la conosco davvero. Quindi la serata di opening sarà accompagnata dall'aperitivo offerto dalla Versa. Altri ospiti? Altri ospiti, aspettavamo te, ma vediamo se riesci a incastrare i tuoi impegni. Ci proviamo, ci proviamo. No, perché insomma sono sempre tanti gli ospiti che vengono poi alle tue serate, alle tue aperture a questo Vernissage appunto che racconterà un po' cosa nei dieci giorni successivi si potrà vedere appunto all'interno della mostra Milart in scena appunto al Maek dall'1 al 10 e si ha usato appositamente in scena perché è davvero un grande spettacolo. Vado a immaginare, mi ha detto 46 artisti più o meno, da più o meno 17 paesi diversi, nel mondo quindi insomma pensate davvero che è altro che Giochi senza frontiere cioè veramente è un melting pot di culture che però è una cosa molto interessante parlano della nostra città e quindi sarà interessante vedere appunto quale sarà l'occhio critico sia dei milanesi ci sono anche degli artisti milanesi giusto? Assolutamente sì. Gioca in casa tu Alessandro sei uno di quelli quindi giochi in casa e vediamo come l'occhio critico di chi vive il posto mostrerà sulle pareti del Maek le sue opere e invece l'occhio di chi arriva da fuori magari c'è qualcuno che parla di Milano e neanche c'è mai sta magari è la prima volta che viene a Milano che ne sa magari però ha un'idea di Milano e l'ha espressa giusto? non necessariamente dovrà essere tutti qua adesso noi ci fermiamo un attimino perché andiamo in pubblicità che è fondamentale se no qui domani ci staccano la corrente e quindi torniamo dopo un paio di canzoni qualche consiglio per gli acquisti e torniamo qui sempre a parlare con Alessandro Giugni e Evamos della mostra Milart dall'1 al 10 di marzo al Maek qui a Milano proprio a due passi dal Duomo in supercentro Governo Punk Bunker 44 posso dire una cosa ai bunker? nel senso sbravi quello che volete 2, 2, 7, 5 bravi 4 coreografie 4 le volete imparare a memoria o no? invece di saltellare sul palco a caso di qua e di là scusate mi tiravano matto di Sanremo che saltellavano di qua e di là tra prendesi anche vestiti abbastanza bene mi piaceva quello stile che avevano ma è salta chi? salta della sta fermo un attimo Mucchela sta lì comunque scusate piccola parentesi scusa Eva ti ho rubato dei minuti allora parlavamo appunto di Milart con Alessandro Giugni e Eva Amos il primo di marzo l'inaugurazione il vernissage della mostra ospite del vernissage sarà anche il nostro amico Simone Lunghi esatto che l'ho visto ieri che è venuto a trovarti a fare la puntata siamo tornati anzi grazie Eva ti rubo un altro minuto da oggi ritrovate sul sito di Good Morning Milano goodmorning.milano.it il nostro podcast speciale un podcast che parla di milanesi che è miei carissimi milanesi questa settimana ospite Simone Lunghi settimana prossima ragazzi ve lo dico cocchi punzoni quindi signori signori tenetevi forte perché settimana prossima puntatona e anche questa settimana e anche quelle dopo insomma abbiamo davvero già una decina di puntate pronte da farvi ascoltare che sono qualcosa di pazzesco e oltre ad ascoltarle potete anche vederle perché è un video podcast sia su Spotify che su YouTube che sul nostro sito scusami Eva torniamo a Simone Lunghi Simone Lunghi allora che cosa sarà lì a raccontarci questa volta? non può venire in canoa perché non c'è vicino purtroppo no è un po' devi parcheggiarla sui navili sulla darsene e poi camminare un po' prende il tram si attacca il tram la darsene lì con i roller è facile nonostante il pavere sarà facile col monopattino no non è più da rollerblade lui più da pattini più da pattini e starà lì a raccontarci le sue esperienze cosa ti ha detto cosa ci racconti ha già detto qualcosa allora innanzitutto non potevo non invitare Simone perché per me è un personaggio molto legato con la città di Milano un angelo dei navili giustamente navili è un posto magico a Milano e come sappiamo bene Simone salva i navili tirando fuori tutto quello che finisce dentro per sbaglio ma purtroppo non per sbaglio come le biciclette quelle pubbliche diciamo che mettono in noleggio quindi un vero salvatore lui si chiama Simone quindi Simone parlerà della della sua attività quello che fa e noi alla nostra volta i cataloghi che mettiamo mettiamo lì in vendita vanno diciamo cioè ricavato dalla vendita dei cataloghi vanno in beneficenza e appunto per l'associazione destinata all'associazione di Simone e Angeli del Bello ebbene sì perché insomma lui è così milanese che pensa non so dove ricordi lui ha impersonificato anche Sant'Ambrogio sì in canoa sul naviglio in sup sul naviglio vestito da Sant'Ambrogio ha impersonificato Leonardo da Vinci che rivedeva il sistema idrico della città di Milano insomma quindi sì effettivamente più milanese di lui non mi viene in mente nessuno l'hai mai incontrato Alessandro Tuo? non so chi è ma di persona mai conosciuto allora ti do un compito da milanese devi fotografarlo devi fotografarlo devi fotografarlo perché secondo me è un ritratto della città se si presta volentieri poi io lo studio sui navigli in corso San Gottardo quindi perfetto vedi come le cose quindi Simone mi raccomando se squilla il cellulare di Alessandro rispondi perché ti vorrà proporre un ottimo ritratto che serve chi sono gli altri milanesi che tu hai ritrattato in questi anni? in questi anni diciamo che ho fatto più o meno tutta la zona Navigli essendoci cresciuto perché mio nonno ha fondato una torrefazione storica che è quella che ha formato praticamente tutti i torrefatori del nord Italia e aveva la sede nel cortile di Corso San Gottardo al 15 che poi ho trasformato in uno spazio eventi più sala shooting e quant'altro più c'è il mio ufficio la mia sede legale e quindi io lì conosco praticamente vita, morte e miracoli sono 30 anni che frequento quindi ho fotograficamente fatto un piccolo lavoro che però ho tenuto solo per me su quelle che sono le piccole botteghe storiche che sono sopravvissute posto che ormai c'è un'invasione di piccoli bar di cinesi esatto sì ma soprattutto i marchi dei greci che aprono in continuazione se ne apre uno ogni 50 metri ormai non si capisce più chi mangerà il pita greco è bene cioè il nuovo kebab sì sì il pita greco il nuovo case del new kebab esatto bisognerebbe reinterpretare magari con gli archivi tipo del Corriere della Sera di Virgilio Carnisi o cose del genere bisognerebbe reinterpretare Milano e vedere le stesse zone come sono cambiate perché tipo Virgilio Carnisi che ha documentato Milano per 30 anni e ha documentato soprattutto la zona Navigli sarebbe interessante prendere le sue immagini con le stesse inquadrature e riproporle oggi e vedere come una volta che l'invasione fosse quella dei fruttivendoli pugliesi c'era un po' quello diceva anche mio nonno è vero ogni ondata migratoria ha portato Milano un genere alimentare o un genere commerciale quello dei pugliesi che facevano i fruttivendoli è stato una delle prime ondate effettivamente insomma o volete mettere la frutta verdura da Puglia è buona piuttosto che il kebabaro direi ci sono dei kebabari che fanno grandi cose in questa città invece e che insomma portano grande gusto andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo ancora qui perché sono curioso appunto di sapere anche di più sulla tua fotografia Alessandro e poi ricordiamo bene appunto come si fa le modalità anche per accedere al al vernissage e poi alle giorni successivi ricordiamo fino al 10 al Mike Milart prima edizione Milano vista dagli occhi di artisti milanesi ma anche da coloro che sono diciamo da altre parti del mondo e hanno voglia di raccontare la nostra città città che accoglie sempre tutti quanti e accoglie anche la grande musica Francesca Michelin che non è milanese ma che qua fa grande musica da tantissimi anni Francesca Michelin io non abito al mare grazie Francesca adesso ne prendiamo atto se gli bastano via grappa credo ma non so se vivi ancora lausa via Milano adesso credo che vivi a Milano credo anche lei milanese d'adozione stiamo parlando appunto di Milart tanti artisti 46 artisti 17 paesi diversi tante opere d'arte tante modalità d'arte quindi fotografia sculture detto un pezzo di capo di moda anche dicevi giusto un capo di moda esatto poi c'è anche Roberto Sironi ti ricordi Roberto Sironi che in realtà nasce come musicista ma adesso si è scoperto l'artista e quindi lui presenta i suoi biglietti di ATM bellissimi ne ho qualcuno qua sono dei bellissimi pezzi con i disegni sopra quindi è una cosa molto non so come definire più la più milanese di quella roba lì c'è poca roba perché effettivamente disegnare su dei biglietti dell'autobus del tram di Milano insomma devo dire che sono davvero qualcosa sarà un problema perché adesso li vogliono ritirare vogliono mettere tutto sulla tessera elettronica allora diventano veramente le opere storiche delle opere storiche si troverà il modo di fare delle serigrafie sopra alle tessere in PVC Alessandro tu sei anche un fotografo appunto diciamo non fai solo il fotografo però quella è una buona parte della tua vita come ci sei arrivato appunto a questo tipo di fotografia il luogo mi sa che ti ha un po' condizionato sbaglio allora diciamo che è un percorso un po' travagliato nel senso che se non ci fosse stato mio nonno non ci avrebbe creduto nessuno non sarebbe mai partito mi ha comprato la prima macchina prima video fotocamera quelle della Canon piccolina con lo schermino che si apriva di lato un megapixel con i punti della ESO quando perché avendo l'azienda appunto che vendeva caffè faceva tanti trasporti collezionava una marea di bollini e è stato quello che ha creduto nel concetto di si deve viaggiare per fotografare quant'altro poi diciamo un po' credo sia 50% bravura ma 50% anche fortuna e soprattutto capacità di relazionarsi umanamente perché quello che ti apre le porte poi è il rapporto umano se non instauri rapporti umani con altre persone non riesci poi puoi essere il più bravo del mondo ma non riesci ad emergere infatti a volte emergono persone che stilisticamente magari non sono granché però hanno un'ottima capacità di vendersi devi essere imprenditore di te stesso quindi diciamo che è stata una fortuna entrare in alcune mostre di Vittorio Sgarbi che è stata la base di partenza poi lì un po' di galleristi persone hanno cominciato a notare qualche conoscenza interna diciamo il lavoro che ha lanciato un po' tutto è stato il fatto che ho lavorato per l'arcivescovo di Milano più volte ho realizzato prima un reportage su San Carlo che uno si chiede come fai a averlo fatto visto che è morto 400 anni fa non sull'ospedale San Carlo San Carlo Borromeo quindi un reportage architetturale quindi ho potuto accedere a una serie di luoghi diciamo abbastanza inesplorati poi da lì è nato vabbè ho fatto un lavoro sulla requisizione delle reliquie borromeiche tutti i lavori pubblicati di cui ho fatto anche l'inaugurazione delle mostre e quant'altro e poi quello mi ha dato l'idea quello è studi di un certo tipo mi hanno dato l'idea per fare il lavoro che è appena uscito che è un lavoro sull'esoterismo della chiesa cattolica dormendo per un anno in monasteri di clausura con dispensa arcivescovile e romana un lavoro che non è soprattutto perché in questo paese c'è una forte reticenza da questo punto di vista quindi quando associ il concetto di esoterismo e chiesa cattolica ti guardano male invece sono molto più aperti i monasteri a questo tipo di ragionamento esatto un lavoro che poi è sotto legida di arcivescovi e una serie di altri prelati romani lo faccio spesso questa domanda a chi appunto opera nella città di Milano quali sono i luoghi o se c'è un luogo o i luoghi del cuore di Alessandro Giugni nella città di Milano direi due in particolare vabbè il primo è il corso di portati cinese sarà perché poi uno appunto ci cresce sarà perché ti amo diceva qualcuno sarà perché ti amo esatto o come direbbe Walter Valdi un milanese a Milano oggi io quando sono lì mi sono l'unico italiano ormai sopravvissuto in quella zona è sempre una zona ricca esatto e poi secondo me un luogo non luogo che non è fisicamente rappresentabile neanche fotograficamente è il dialetto perché quando sento qualcuno e questo non è un posto fisicamente attribuibile è individuabile ma quando senti qualcuno in piccole botteghe negozi cioè c'è tutta una realtà storica non so penso in via Dogana dove ci sono alcuni negozi che sono lì da 50 anni botteghe storiche eccetera quelle sono realtà dove i proprietari magari hanno 60 70 80 anni sopravvivono nonostante le mille beghe comunali li permessi un mondo sempre più complicato e parlano ancora il dialetto che è una cosa che stupisce in una zona così turistica dove dovresti essere solo un dialogatore inglese e invece utilizzi quindi essere international come va di modo parlano ancora il dialetto di Milano che poi è una peculiarità molto milanese quella di aver perso il dialetto che ci pensate in tutte le altre città d'Italia in realtà rimane e anzi viene preso anche da chi ci va nel senso che poi tu hai basta pensare al napoletano in questo momento come è diventato anche una lingua per la musica italiana che utilizza quel tipo di linguaggio ma tantissimi se tu vai a Roma ma chiunque di noi si sfida ad andare a Roma molto probabilmente nel giro di sei mesi un anno anche noi incominciamo a parlare romano o almeno se non proprio in dialetto con comunque una forte cadenza e con l'utilizzo di molte parole del luogo Milano questa cosa un po' l'ha persa è un peccato l'ha persa nelle nuove generazioni nelle generazioni di chi arriva in città forse perché effettivamente siamo sempre stati così international così proiettati verso il futuro e quando creiamo qualcosa in questa città poi lo distruggiamo in un attimo per creare qualcosa altro di nuovo e quindi insomma è un po' peccato perché le tradizioni sono importanti e sono fondamentali per capire poi anche come fare meglio il proprio futuro quindi insomma Milano è una grande città anche per quello Milano è una città attrattiva dicono tutti cosa ne pensi di questa attrattività della nostra città è vero o è una fandonia che ci racconta qualcuno devo dire quello che penso sì sì puoi dire quello che pensi perché io credo che sia una mezza verità vi dico la verità quello che penso credo che sia vero fino a un certo punto cioè se lo vedi dall'esterno è tutto bellissimo quando lo vedi dall'interno ti accorgi che c'è una serie di situazioni che non hanno non hanno ragione di esistere perché hanno snaturato la città cioè questo però è un problema di tutta l'Italia credo noi vogliamo abbiamo una dimensione tale per cui vorremmo essere internazionali ma non abbiamo né le strutture né le infrastrutture neanche la mentalità basta vedere le aziende cioè le aziende sono ancora la maggior parte le PMI funzionano ancora questa è l'altra parte della mia vita sono a conduzione familiare unipersonale dove magari il titolare parla appunto in dialetto però vende ai russi o vende ai turchi e quindi ovviamente quando devi parlare con qualcuno da fuori quello come fa diventa complicato diventa complicato e magari non parla invece con suo figlio che dovrà fare l'azienda poi c'è anche questo il problema il scontro generazionale nelle aziende soprattutto nelle PMI sappiamo quanto è importante sappiamo quanto anzi ci sono associazioni di categorie come Assolombarda ConfCommerce che fanno proprio dei corsi per il passaggio generazionale intorno alle aziende pensa a te siamo quasi in una chiusura Eva daccelo quindi l'appello finale per venire a Milart allora vi aspettiamo numerosissimi il primo marzo all'opening della mostra Milart la mostra dedicata a Milano dove vi presentiamo 46 artisti internazionali e poi ci saranno altre bellissime cose ma devo ricordarvi naturalmente anche indirizzo la galleria si chiama Mike e si trova in via Santa Maria Valle 2 una delle attraverse di via Torino proprio a due passi da dove di Milano ombra della Madonnina come si dice in questi casi esattamente e allora Eva grazie mille noi ci vediamo quindi il primo il venerdì primo marzo dalle 17.30 dalle 17.30 si aprono le porte e poi una serata in compagnia dei tuoi ospiti due artisti delle opere che ci saranno esposte durante questa prima edizione di Milart ci sono opere tue? Eva? no non ci sono opere tue sembra che Eva è anche un artista quindi volevo capire suonerai qualcosa? no no io ho portato Milanesità ah ok ci pensano loro ci pensano loro tu hai portato il vino con gli amici dell'Oltre Popavese quindi ci pensano loro niente però vi dico circuitela i Vamos sui social perché ci sono anche le sue operate si possono trovare in giro ci sono sui social ok sono molto molto interessanti dategli un'occhiata grazie Alessandro grazie per essere qui con noi grazie a voi complimenti per il lavoro che fai e mi raccomando continua a fotografare la nostra città che insomma ne ha bisogno di essere testimoniata con gli occhi di chi la guarda anche in maniera critica a volte ma sono avuto comunque con quegli occhi critici di chi è innamorato di una città grazie grazie mille Alessandro grazie ancora a Eva noi ci risentiamo fra pochissimo per il saluti finali per gli appuntamenti della giornata per ricordarvi anche che insomma Cristian Radio è dopo di noi e va avanti perché noi fra poco chiudiamo ma Cristian Radio continua sono le 8.50 martedì 27 febbraio questa è Cristian Radio io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano e ora quello che arriva è Dargent Amico con Onda Alta grazie a tutti